Il Nardò rompe gli indugi e batte i primi colpi di mercato. La società Granata, dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore, ossia Fabio De Sanso, ha reso noti i primi innesti, Marco Calderoni, Amiga Samà e Luigi Gianfreda. Il terzino sinistro, classe 89, vanta quasi 500 presenze tra i professionisti, 350 delle quali in Serie B, tra le file del Bari e non solo, e 27 in Serie A con addosso la maglia del Lecce. Lo scorso anno in C ha giocato prima a Fermo e poi a Brindisi. Il duttile attaccante guiniano invece è riduce da un buon campionato in forza al Santa Maria Cilento. Nel corso della passata stagione ha realizzato tre gol. Il classe 99 non può non essere considerato un esperto della categoria dopo circa 150 presenze raccolte in cinque gironi differenti. Il difensore centrale, ex Bitonto e Francavilla, torna invece in Salento dopo un biegno trascorso al Degli Olivi. Presto lo raggiungerà un altro difensore pugliese, suo compagno di squadra ai tempi della Virtus, Fabio Delvino. L'ex Fidelis è riduce dall'esperienza Almatera. Il possibile ritorno di Marco Puntoriere è vincolato dalla decisione di affondare o meno sul bosniaco Marco Maletic. Il direttore sportivo Granata Corallo continua comunque a seguire anche la pista Suleiman Camarà, che potrebbe rappresentare un altro ritorno, mentre come portiere dovrebbe arrivare a breve l'all-in per Gennaro Paduano. Sarà il classe 2003 del Manfredonia a raccogliere l'eredità di Antonino Viola, trasferitosi alla team Altamura dopo aver difeso i pali in retini per due anni. Ufficiale infine anche il primo rinforzo under. Dal Lecce arriva il terzino classe 2006 Riccardo Montagna. Grazie.